Mi serve un'idea. Devo finire un progetto importantissimo e non riesco a farmela venire. Ho provato di tutto. Ora però voglio provare con la mindfulness. La conoscete già? Pare aiuti ad aumentare la concentrazione e a sviluppare la creatività. Mentre aspetto che arrivi il mio maestro vi racconto cosa ho scoperto. Ne bastano 5 minuti al giorno, meglio se al mattino o alla sera, da fare chiaramente in un luogo tranquillo senza distrazioni. Si fa seduti con gli occhi chiusi e ci si concentra sulla respirazione, prendendo consapevolezza del proprio corpo dalla testa ai piedi. Shhh, sta arrivando il mio maestro. Poi vi dico se funziona.